Musica Ben trovati al nostro spazio dedicato all'informazione sportiva. In primo piano il calcio con la Serie C e la Lucchese in ritiro a Corfino. Questa è la settimana delle prime uscite amichevoli. Sentiamo il servizio di Giulio Del Fiorentino. Tanta fatica che servirà nel durissimo girone B del campionato di Serie C. La Lucchese lavora a Corfino per mettere benzina nelle gambe in vista di un campionato come sempre lunghissimo. Dopo tanta corsa e un lungo allenamento tecnico-tattico sugli schemi, quella appena iniziata è la settimana delle prime uscite. Mercoledì 27 luglio al campo sportivo di Corfino alle 17. È stata fissata la prima sgambata stagionale contro una rappresentativa locale. Un test sicuramente non probante dal punto di vista dell'impegno, anche se come sempre molto suggestivo per i tifosi. In tanti nel fine settimana hanno infatti scelto di passare qualche ora in Alta Garfagnana per vedere gli allenamenti della Pantera. E sicuramente anche mercoledì la curiosità sarà tanta. Non basta perché sabato in Versiglia la Lucchese dovrebbe affrontare invece una formazione collaudata come quella del Seravezza Pozzi, che si sta preparando ad affrontare il campionato nazionale di lettanti. La partita si giocherà a Seravezza. Le due società ne stanno parlando. Il 10 agosto, fissata a un'amichevole ad Arezzo, contro la squadra allenata da misteri indiani e diretta da Paolo Giovannini. Ancora il calcio, il centrocampista Alessandro Aquilante torna al Real Forte Querceta. Lo ha annunciato la società versiliese, già protagonista di alcune parentesi in bianco-nero-azzurro. Dopo l'esperienza in eccellenza al Frates Perignano, il giovane classe 2003 rientra a Forte dei Marmi con ritrovato entusiasmo per trovare continuità e crescere al fianco di calciatori più esperti. Passiamo all'Hockey. Divorzio a sorpresa tra il Sarzana e Mirko Bertolucci. Ce ne parla Roy Lepore. Mirko Bertolucci, dopo aver ricevuto a sorpresa la comunicazione da parte della società del Sarzana, del presidente Maurizio Colonna, con il quale sembrava che filasse tutto liscio, che non sarà l'allenatore della squadra che prenderà parte al prossimo campionato di Serie 1 di Hockey su pista, ha voluto commentare quanto si è verificato. Tale amara decisione, intanto scrive la società su Facebook, di non rinnovare il rapporto dopo una sola stagione piena di successi, è scaturita da insanabili divergenze tra tecnico e società in vista della programmazione del prossimo anno sportivo. La società ringrazia Mirko Bertolucci per l'attività svolta e per i titoli conquistati che hanno arricchito la bacheca rossonera, augurando dei migliori successi per il futuro. Questo è il commento del tecnico Viareggino che si è affidato anche lui a Facebook. Ho avuto con un'email la comunicazione che non avrò più nessun incarico nell'Hockey Sarzana. Alla fine della regular season mi era stato richiesto di non curare più il settore giovanile e adesso la società mi ha comunicato di non voler avvalersi più della mia prestazione in qualità di allenatore della squadra di Serie 1. Dopo una stagione di successi ed un inizio di estate faticoso, comunico con grande dispiacere che finisce qui la mia collaborazione con il Sarzana. Lascio una parte di me, una squadra qualificata ai gironi finali di Champions League e due grandi trofei, lo scudetto Under-19 e soprattutto il primo storico trofeo senior, la Coppa Italia con la prima squadra. Un caro saluto a tutta la città e ai tifosi. Mirko Bertolucci, ricordiamo, aveva sostituito proprio il fratello Alessandro sulla panchina del Sarzana, approdato prima alla Nazionale e poi altrissimo con il quale ha vinto il campionato di Serie 1. È tutto per la nostra informazione sportiva a qualche istante di pausa e poi la terza e ultima parte del Telegiornale.